Musica Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel taleale Eccoci qui di nuovo con Sniper Elite 4 Proseguiamo la nostra campagna quindi Andiamo al monastero di Abrunza I servizi segreti americani ritengono che la mafia possa tornare utile agli alleati Come prova di lealtà l'organizzazione criminale vuole che uccidi Piero Capo Il leader delle brigate nere locali Vuole anche che identifichi i veicoli che trasportano le opere d'arte dal monastero in modo da occuparsene Inoltre l'artiglieria tedesca rappresenta una minaccia da nientare Visto che l'invasione alleata è imminente Va bene va bene allora vediamo un pochino Vediamo un pochino abbiamo sbloccato un'altra abilità Visto che l'ultima volta abbiamo fatto un bel po' di cose Aumenta la capacità curativa delle bende oppure riduce i danni dalle cadute A sto punto facciamo questo delle cadute Tanto le bende non è che le usiamo tantissimo E cos'altro cos'altro I colpi silenziati sono utili Anzi io faccio anche una cosa Non è per sfiducia ma lo slot dato a questo non c'è molto utile Forse in realtà le tra dispositivo esplosione Attiva doppia pressione ma funzionano anche per i carri Perché noi quelle ci servirebbero Queste già ce le dà di serie in realtà Sapete che non so se funziona anche per i carri Io nel dubbio Tanto due Due zombie Ci possono anche stare Per quanto riguarda le armi Allora Allora Ma che ci manca qua di Rincuro Zoom Prima sblocca tutti i potenziamenti Allora Uno l'abbiamo sbloccato Skin predefinita Non è la skin più che altro I potenziamenti voglio capire Danni 30 uccisioni coperte da rumori Eh ma Capitiamo sempre con Uccisioni mirando dalla spalla In teoria senza mirare 20 uccisioni sopra i 100 metri Questo si può fare 20 colpi al cuore Questo però sblocca tutti gli altri potenziamenti Ah ok per arrivare con questo Che non l'abbiamo ancora fatto Eh questi due in realtà sono un po' difficili eh Cioè questa coperta da rumori Magari se capita in una missione particolare Se può fa Questa del senza mirare praticamente Un po' meno Però vabbè andiamo Proseguiamo con il nostro Fucilazzo E andiamo avanti Comunque ragazzi Per quanto riguarda la difficoltà Sì non è difficilissimo Però c'è da dire che io vi taglio molto Eh molte volte ho dovuto Anche siccome lo voglio fare Completamente stealth Molte volte mi è capitato Di dover ricaricare anche la partita La produzione del missile di Kessler È a pieno ritmo I componenti che ho trovato Non potevano servire ad altro Certo abbiamo mandato all'area l'operazione Ma quanti di questi componenti Sono già stati inviati ad Allagra Quanto manca i nazisti Alla produzione di massa del nuovo missile Una cosa è certa La mafia rubava nel cantiere E l'OSS intende sfruttare questo collegamento Specialmente visto il coinvolgimento della mafia Nell'operazione Aschi Con la quale gli alleati hanno preso la Sicilia Weaver vuole presentarmi Salvatore Dinelli Il famigerato capo criminale Crede io possa convincerlo A collaborare con gli alleati e partigiani Ma tutto ha un prezzo Ok Allora Vediamo un pochino Vediamo un pochino Partiamo da Qui dove 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 Ci sono C'è qualcuno che vuole Che faccia qualche altra missione Si sa ma di solito ci stanno sempre Dei personaggi Con cui parlare E infatti Eccolo qua Ah proprio il Una bottiglia di Montenasca del 1913 Che meraviglia Signor Dinelli Chiamami Salvatore E' sufficiente Non siamo amici Noi due Noi due Abbiamo dei nemici in comune Vorremmo aiutarvi ad eliminarli Lo vorremmo anche noi amico mio Pogeste cominciare Con Piero Capo Il capo delle bregate nere Quell'uomo E' un barbaro Ah davvero Il monastero è pieno di capolavori Dipinte Sculture Opere bellissime Ho saputo da fonte sicura Che Capo Vuole Rimuovere quelle opere Per venderle? Ma ovviamente Quei tesori verrebbero pagati una fortuna Sul mercato nero Se sapessimo come Ha intenzione di prenderli Allora Potremmo fare qualcosa Ma certo Per poterci davvero considerare amici Capo dovrà essere eliminato Ci siamo capiti Vero? Certo Tutto chiaro Bene Capo indossa un rosario Un regalo di sua madre Lui non se lo toglie mai Portamelo E saprò che avrai fatto il tuo lavoro Quindi dobbiamo anche perquisire Il tipo Va bene Va bene Allora Questa è una missione Vediamo se ci sono altri personaggi Comunque è tutto Realizzato I minimi dettagli Anche queste All'interno degli edifici Quei cannoni anticarro decimeranno gli alleati Se passiamo da qui Credi sia possibile? Per i tedeschi sembra di sì Ora è tutto tranquillo Ma è tutta la settimana che sparano a intermittenza Potrebbero anche ricominciare Meglio neutralizzarli, Carlo Ok Ok Ah il cecchino Dicono che vuoi esserci amico La guerra forma alleanze imprevedibili Il monastero E il regno di capo Per entrarci Devi conquistare la rocca La rocca difende il monastero? Sì, è logico Sembra proprio che il monastero sia ben protetto E per via della base Aiutava i fascisti Lavorava per loro Tutto per difendere Il suo prezioso monastero e i suoi tesori Come dicevo Alleanze imprevedibili Ok Allora adesso possiamo Partire con la missione Con quanta leggiadria Quest'uomo Non c'è tempo di ammirare il panorama Devo occuparmi di capo Lo stavo per dire adesso Onestamente forse È lo sniper elite Visivamente più bello Cioè visivamente Dal punto di vista ambientale Poi è normale che graficamente Rispetto magari al primo capitolo Che è uscito anni e anni fa Sia più bello Ma io dico proprio come Ambientazioni sarà La nostra Italia Però Che figata Comunque Sta di fatto che Abbiamo un bel po' di cose Da fare Qua ci sarà Da soffrire Allora Partiamo subito Prima di tutto Anzi faccio un'altra cosa Metto direttamente le munizioni silenziate Sul Fucile E qui non so se ci possano essere Eventuali Zone Coperte da rumore Ah cazzo Cazzo Aspetta Vorrei farlo Con un uccisore Silenziosa Magari col coltello Ok Magari lo piazziamo qua Non so se questo Che sta eventualmente Qui possa passare Ma non è vero Ma lascia fare Aspettate Vabbè come detto Non è che sia un grande problema Quello che Vedano qualche morto in più Però Difatti Se può fa Se può fa Tranquillamente Come detto Fino a quando c'è il giallo Che ci becca Non è un problema Il problema È quando diventa rosso Rosso E che non abbiamo Il tempo Di Correggere Quindi Passare Al volo Il tipo Che ci ha individuato Comunque Questa è fatta Qui davanti Dobbiamo uccidere L'ufficiale Se riusciamo a farlo Direttamente Magari dalla finestra Forse l'acqua è sola E ogni tanto qualche Collezionabile L'ho raccatto L'altra missione C'erano riuscito Erano due Se non ricordo male Qui Sono cinque Quindi La vedo più difficile No Dai veloce Cazzo Però Troppo lento Buon uomo Troppo lento Aspetta Ma l'ufficiale È quello Che zitto No non era lui Ah si ma dovevo Ispezionarlo Cioè devo Ispezionarlo No Eh aspettate Che non volevo Farmi beccare Quindi dovevo Un attimo Rientrare al volo Dov'è? Là sotto Salve Ogni tanto Ci salutano Sono comunque Amichevoli Dai Abbiamo il Colpi silenziati Quindi A conti fatti Si può fare Aspetta Dai Dai Alza quello pure Dove sta andando Dove sta andando Ok Ehm Secondo me Possiamo scendere Da qui Aspetta Sta passando Qualcuno Facciamo in tempo Vediamo Vediamo Ok Un codice di radiotrasmissione Utile Ora Ora Ci di soldati Distruggi i cannoni Chiama il convoglio E distruggi i cannoni Ok Prima di tutto Quello che sta esagerando E' quello Dei coglioni Non vorrei allo stesso tempo Andare a Utilizzare troppi colpi silenziati Perché poi magari Ci ritroviamo senza Però che dobbiamo fare Un arduo compito Ma Ci spetta Aspetta Ok Per un pelo Per un pelissimo Ok Quelli in realtà Ci potrebbero vedere Però se ci diamo Una mossa Lo so Lo so Ce n'è uno Qui vicino Ma Noi onestamente Ce ne freghiamo Che facciamo così Oh merda Questo Meglio prendersela Con calma Ma mirare bene Che E dove cazzo vai Fottuto bastardo Di merda Stando al diario Dell'ufficiale L'abate Non l'ha detta tutta Bacchio Stiamo su qua Ok Ho dovuto fare al volo Perché se no ci beccano male Chiamo il convoglio Cazzo Volo chiamo il convoglio L'ha Questo sicuramente sale Questo già sta qua Ok Successo niente Successo niente Ora devo solo aspettare il convoglio Mi serve un buon punto D'osservazione Ehm Anche un buon punto Di fuga Allora Allora Momenti Il convoglio fa questa strada Quindi il punto D'osservazione Vediamo Allora Mi metto qua Donvola La mafia Aspetta il mio segnale Meglio andare Alla campana Del monastero Ehm Uccidi soldati Distruggi i cannoni Squadbot Suona la campana Allora Sono arrivato a questa Zona qui Dobbiamo trovare i documenti E se riusciamo a farlo Magari Due estremamente stealth Sarebbe ottimo Questo ci può servire Ok Ehm Aspetta però Dove cazzo Stanno i documenti Saranno giù Possibile No Non so di sì Si prosegue ancora I meandri Della Della casa Saranno qui Perché se c'è un uomo Di guardia Che posto è questo Non lo so Secondo me stanno qua i documenti No Vediamo un po' Un elenco di loro Vatti Cos'è questo Non lo so Va bene Comunque Altro elenco trovato Ora Devo risalire Vabbè Andiamo Al monastero E poi Uccidiamo i soldati Che ne sono Pure un bel po' Ne sono Abbiamo pochi colpi Silenziati Questo potrebbe essere Un problema Però Però Qualche colpetto Dalla distanza Ce lo Olè Via le cuffie Anche perché qua Dobbiamo Uccidere i soldati Penso Tutti Distruggi i cannoni Ok Quindi Per ammazzare tutti i soldati Ci vuole un po' Di lavoro Ci vuole un po' Di lavoro Cazzo Aspetta che il maschio Mi volerà Qua Vacca puttana E che ci stava Beccata La Ma c'è un altro Ingresso Se Ce la giochiamo D'acqua Si perché sono Un bel po' Quindi Se Se Fa Quell'unico Problema È il Rumore Ma Cazzo Aspetta Stanno Stanno passando Da tutte le parti In realtà Va bene Ok E Quanti cazzo Sono Usare Usare la pistoletta Ogni tanto Tutti guadagnato Facciamoci il giro Merda Un momento Un momento Un momento Che qua Ah Addirittura Sopra Sono andati Ci posso provare Pure io Ma ci beccano Ah cazzo Ci beccano male Ci beccano male Perché sono due Zitti zitti che abbiamo fatto Una combo di una velocità Aspettacolare Così è andata bene Siamo riusciti a non sbagliare Anche perché qua Bastava sbagliare un colpo E eravamo fregati Aspetta anche lui Buon uomo È rimasto solo lei Scusi Non è vero Ce n'è un altro Da qualche parte Credo Sta di fatto che Aia Pensiamo morire male Ah no Ce ne stanno un bel po' In realtà Ma Che poi stanno oltre Ehm Sì Forse Distruggendo anche questa Ce la facciamo Devo distruggere i cannoni Allora Che altezza sta il cannone Scusate Aia Occhio Non è successo niente Non è successo niente Non è successo niente Si è accorto di niente Non è così Quindi in linea teorica Abbiamo eliminato anche i Miltari no? Questa zona Vediamo se una volta distrutto Quello finisce La Anche questo obiettivo Quello è andato Qua ancora no In realtà Perché devo eliminare Proprio tutti Tutti Perché sennò Famo notte qua Uccidi tutti i soldati Nelle vicinanze Quindi anche questi Devo ammazzare E che cazzo Però Fermati là Grande Ma che cazzo Vabbè Ce l'ha data Anche se Ci può stare Ci può stare Se il colpo È andato un po' così Vabbè Adesso possiamo andare Al Monastero Allora Sto passando qui Per arrivare al Monastero Perché dobbiamo anche Minare un po' di altre cose Quindi Cerchiamo di fare un po' tutto Stando attenti I militari Che stanno Qui sopra Quindi Tra le vigne Credo Tra le vigne No? Sì Ecco là Ho detto ogni tanto Facciamo gilecca Con la pistoletta Allora Qua sotto Al cannone Ce ne stanno Un bel po' Sono Tutti giù? Sì Ah Sono tre Dov'è? Giovane Ok Ho detto Anche se appare un pochino Il rosso Per un secondo Può andar bene Se quello Lo ammazziamo subito Perfetto Andiamo sempre E saliamo al Monastero Cazzo Guarda quel bastardo Ho fatto spazio O qua dove Capito che ha sentito L'esplosione Però se si faceva I fatti suoi Sopravviveva Eh scusate Eh ah c'è chi Fa il furbo Sta a fa Ehm Controllo E' il fucile Che aveva E' il fucile Che poteva servirci Allora Noi qua Dovremmo anche suonare Le campane Ma lo dobbiamo fare Adesso Magari dopo che abbiamo Ammazzato il tipo Oppure lo dobbiamo fare Da sotto Ora gli uomini di Dinelli Sanno quale camion Contiene le opere E posso Si aspetta Però pure questi Si sono allertati Quindi Diamoci una regolata Allora Ce la facciamo Da qua Ok da qua Ce la facciamo Perfetto Aspetta che forse Se la becchiamo Direttamente da qua Ce la siamo Svangata Infatti che c'è Una cassaforte Lì O no C'è Cassaforte Da far esplodere Eventualmente Per forza Ma si Veloce 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 C'è veloce Ma Veloce Deve essere Adesso Oh La balter aiutava Gli abitanti A fuggire Che uomo coraggioso Eh Guarda Ora però Tocca ad Arse Questi ci vengono A fare il culo Ehm Possiamo No 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 vorrei capire Ad esempio Dove è il Il boss Scusi Restate Concentrate Qua Provo a passare Qua Magari In chiesa A pregare Che figata Però Aspettate Non vorrei Comunque Schiantarmi No Non è in chiesa In realtà Forse Allora Vediamo dove Devo trovarlo Uccidere Trovarlo È il problema Non è vero Non c'è Dove cazzo Sta Scusi Ma questo L'hanno imboscato Male Sto Cazzo Di Piero Guarda qua Scommetto Che sta Qua sotto Sta nel Bunker Tra l'altro Fuori Dall'area Di Della Missione Ecco Aspetta Cioè Dimmi tu Dove cazzo L'avevano imboscato Sto bastardo Qua A Piero Che fa Corre Faffanello Va È stata abbastanza Complicata Come cosa Perché Cioè Come detto Stava qui sotto Fuori dall'area Di gioco Comunque Comunque Possiamo andarcene Vattene dalla zona Bene Bene Abbiamo fatto un po' di tutto Ok Usciamo da qui Ok Siamo arrivati Nella zona Di uscita Aia Siamo quasi Arrivati Nella zona Di uscita Signori Vi potete Salvar Vi potete Eventualmente Salvare La vita Ok 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 Anche questa È fatta Precisione Un po' Meno Però È stata Una Sparacchiata Totale Perché Abbiamo 179 Persone Come sempre Facciamo delle stragi Però non è colpa nostra Si mettono Tra noi Il nostro Obiettivo Quindi Ci può stare Mi raccomando Come sempre Voi fatemi sapere La vostra Spero che anche questa missione Vi sia garbata Mi raccomando Come sempre Lasciate un like Condividete Seguitemi anche sulla pagina Facebook E sul secondo canale Qua prendiamo un bel po' di Medaglia Spero di fare Tutto furtivo Poi con la pistoletta Effettivamente c'è qualche Problemino tecnico Tattico Per questione di mira Comunque dai Ci vediamo Alla prossima Ragazzi Un saluto a tutti Da Questa Leale Un saluto a tutti